Salve a tutti ragazzi, bentornati qui su Alien Isolation Come avete visto nell'ultimo video precedente Dobbiamo andare nella navetta Quindi andiamo direttamente nel gameplay Allora Eh, proprio sulla X devo andare io E non posso andare, quindi devo andare qui E se cosa ci sarà? Ah, è un ascensore questa qua E andiamo alla sala di controllo Cos'è sto rumore? Oh, granata flash Ma qua c'è qualcosa Ok ragazzi, riprendiamo subito La missione Quindi dobbiamo andare qui Vediamo cosa possiamo fare Allarme, batteria scarica Eh, era troppo facile, sì Oh mamma mia, chi c'è? Fatti vedere subito Eccolo lì Adesso ti faccio vedere io subito Ti vedo Ah, ecco Sicuramente Si attiva la corrente Si attiva anche lo sportello Quindi ci saranno gli androidi Ah, eccolo qua Ok, funziona solamente questo qua Reattiva il sistema di transito Dalla console principale Eh, ti pareva Sì, sì, ti seguo Potremmo stare un po' a fermo O no Con la mano che era solamente lui Una vera strage Arriviamo subito Eccoci qua Adesso deve funzionare tutto Olè Quindi possiamo ritornare Torce a gas Questa qua serve Per saldare Allora torce da taglia Fiamma a gas disponibile Bene, possiamo andare direttamente Dalle nostre amici Ma abbiamo attivato tutto qui Cos'è? Si è rotto? Come ci vado adesso? Ah, ecco Usa la torcia a gas Oh Qua c'è un bel buco Allora Ah Ma tanta roba qua Possiamo Farci un bel portellone Eccoci qua Nuova porta di zecca Esatto, questa forza Usiamo, sì Non si vede una mazza Usciamo subito da qui Possiamo incontrare subito I nostri amici Chiamo a navetta Ciao ciao belli Eh me ne sono andata tranquillamente Meno male Ma sono amici o nemici quelli? No, 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 amici Vediamo Ci hai pensato tu? Hai fatto funzionare le navette? Sì Grazie, grazie Davide Tornerà in forze molto presto Samuels è con lei ora Ok Sei riuscita a far funzionare la navetta Quindi siamo pari Dov'è Riccardo? Prepara la prossima mossa Senti, ho da fare Ho Marlo in cella Ho quel figlio di puttana Non vuole darci il codice di comando Per avvicinarla qui automaticamente Magari puoi provare tu A convincere quel bastardo inutile Va a parlare con lui Beh ci vado subito allora Parla con Marlo Mi chiamo Ripley Sono con la compagnia E sei qui per quella scatola vuota Siete proprio astuti Devo dirlo Sono qui per motivi personali Mia madre era sul nostromo Quando è sparito 15 anni fa Davvero? Ah siamo proprio nei panni Forse sta raccontando la storia Concentratevi sul motivo per cui siamo qui Non voglio errone Individi il segnale usando l'elevatore Mamma mia che l'elevatore strano Ah da boom Andiamo Seguite me Eccolo la nave Abbastanza viscita come cose Explore delitto Nooo Mamma mia Cos'è sta roba? Attenti a quello che toccate Non voglio niente di danneggiato Mamma mia cos'è? Cos'è? Disattiva il segnale di emergenza Credo Che l'abbiamo fatto Cosa avete visto? Vabbè quel buco lì L'avevo visto prima Addirittura Dobbiamo aggangiarci Mamma mia Questa è cosa folle Ok scendiamo Che cosa viscita Wow Avete capito no? Dove siamo ragazzi? Qua ci sono le uova E quelle uova lì Come Chi ha visto Alien Il film Ci sono I cosiddetti alieni Ok Se si schiuderà Una cosa di questa Siamo fritti Oh mamma Eccolo che schifo Ora Poi lancia fiamme Wow Lancia fiamme Speriamo che funzioni Oh Gli animali hanno paura del fuoco Spero sia così Eh sì Eh sì L'alieno hanno paura anche del fuoco E qua la cosa si fa molto interessante E prima di proseguire Col video Direi che abbiamo Siamo andati abbastanza avanti Quindi abbiamo saputo la storia Di Malov Adesso vediamo se possiamo Sconviggere l'alieno Con il nostro nuovo Lancia fiamme Spero che non si scarica Velocemente Ma ne dubito E niente ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Io vi ricordo Sempre di iscrivervi al canale Se non è ancora fatto Attivate la campanellina Appena ho perduto i nuovi video Su il mio canale E noi ci beccheremo Nel prossimo video Su Alien Isolation Ciao